Tre nuove aule per l'Istituto Agriario Strozzi di Palidano inaugurate oggi rappresentano una tappa importante nella rinascita di un plesso scolastico duramente danneggiato dal sisma del maggio 2012. Una riconferma di un progetto efficace che procede, che dà una risposta, crediamo, interessante e innovativa ai bisogni occupazionali e dell'economia del nostro territorio e quindi ci fa piacere che la proposta della formazione agraria abbia appeal, abbia interesse presso gli studenti e tutti insieme rispondiamo a questo bisogno importante del nostro territorio. L'istruzione di tipo agrario ha conosciuto negli ultimi tempi un significativo aumento di interesse da parte dei giovani. Importante per il futuro sarà sostenerla e non solo a livello di istruzione superiore. Anche la scelta formativa successiva, cioè quella del sistema universitario, deve guardare in questa direzione. C'è sempre più bisogno di specializzazione in agraria, in agricoltura, nel territorio mantovano e sempre meno bisogno di meccatronica. Quindi questo conferma che le scelte sbagliate fatte sulla fondazione universitaria del passato delle quali purtroppo paghiamo le conseguenze tutti i giorni non devono essere ripetute. Cioè bisogna cambiare direzione in questo senso. 180 mila euro, il costo delle tre nuove aule realizzate dalla cooperativa Tante Tinte ma la parte più consistente dei lavori per lo strozzi dovrebbe arrivare a breve. Partiranno molto probabilmente in primavera inoltrata il recupero della villa che la provincia ha già messo in cantiere una cifra di 2 milioni e mezzo come primo stralcio e di altri 2 milioni e mezzo successivamente. È una scuola che fa parte, è nell'animo di tutti gli agricoltori, di tutti gli imprenditori agricoli, di tutti i tecnici del settore che hanno e sono passati di qua.